E' un'altra scena, mi portano così. Grazie a tutti. 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 No. 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 No, sono pieno del liquido che secondo me fa male questo liquido, bravo, l'hai detto che è per me pieno di questo liquido che devo dire, mi dira un po', ogni tanto me fa un po' male. Ma per la pippa! Oggi con il simposio, tanto è vero che nell'ultimo concetto che ho fatto all'Arlando Sensa, da quell'altra un po' di sterica, praticamente, ho detto a Pepe, guarda, non esclusiva, vita naturale, durante, anche se gli ho detto a Pepe, basta che sia duro che duri, e quindi, non riferendovi né Ortega e me, al Vapo, che avevano due puli splendidi, però uno pieno di boscaglie, di veli, quell'altro un po' più, diciamo, liscio, però certo, di olivizi canali, non erano granché. Allora decisi di optare per le donne, finalmente. Allora, chiedevo qualcosa di più, chiaramente, la corna, la fabelata, insomma, quante donne meravigliose che vanno così a tratto, questo liquido che la saliva è scogliosi ma non esce. Allora, lo so che è più bella la Esther, un applauso a Esther! Lei ha praticamente la tica che sembra una surca, la surca che sembra una padusa, però il fin dei conti non è male, il mio dico sempre, però vanno distrando di nuovo dal colloquio. Come fatevi dire questa storia? Allora, praticamente, nell'ultimo concetto, veramente, ne è venuta una ragazzetta, una parzetta, di quelle che mesticano un po', no, con le piccone, una semi-compista, le serie Z, però proprio quella serie Z, questo fascino volgarotto che ne battizza. Se trovo una donna bella, troppo bella, mi sembra una statua, troppi soldi devo da spendere, troppi discorsi devo da fare, una potenzia a me va meglio, no? Allora, praticamente, gli ho detto, andiamo a cesso, e lei, no, no, se vedo finita, racconta sta storia. Allora, questa bella ragazzetta mi ha detto, Richard, ma sai, ma sto simposio del metallo, ma è proprio vero che c'è tutta sta gente, tutti sti metallari, sti rocchettari, posso trovare molte amicizie, è un'associazione benefica, mi ha detto, non ti preoccupare, vi racconto l'ultima fase della storia, che è questa, invece, no, la finisco adesso, la finisco adesso, la finisco adesso, allora, praticamente, invece del simposio del metallo, mi ho fatto vedere il simposio del pisello. Non va bene neanche questa storia, non va bene neanche, allora vi dirò che se vuoi che la tua ragazza ascolti il rock come una donna, trattala come una bambina, se vuoi che la tua ragazza sprodoli, venga come una donna, trattala come una bambina, se vuoi che la tua donna ti sfucini un cazzo come una droga, trattala come una bambina, cioè, perché se va nel fondo, hai capito, nel fondo al decesso, al recesso, a quel discorso, come dissi, in gerarchie infernali, in gerarchie infernali, provvistandone nell'immondo, non so se vi ricordate queste mie poesie, no, non sono un uomo del branco, cancellatevi dalle vostre argente, figli dei figli, ma di quali fiori, diluite le vostre droga, e così via, 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 gerarchie infernali, gerarchie infernali, penso, però può essere anche un testo, però non ti convince più di tanto, allora fate un pezzo nuovo, forse lo faccio, forse no, alzate e cammina! e poi non ti ciò, ha cercato, se ne scappi! non voglio solo dire una cosa, farlo un po' non voglio solo dire una cosa, è il senso che se non si sente al testo, se parlate sempre, non posso mai esplicare quello che è il testo, il testo è importante, non troppo intransigente, a volte dominante, è a volte pessimo, però in questo caso non è male, vi spiegarò anche io perché non lo posso fare, questo non è male, sai perché non è male? perché alle donne piacciono, è vero, alle donne piacciono, sai perché il punto del culo si è troppo una boccuccia, e la boccuccia è la boccuccia che va sulla sorca, e siccome la mia boccuccia è dominante, non volgare come quella degli altri uomini, ma rimane visto e trova la chiave del punto che fa godere la donna, io rimango visto imperferrito in quel punto, voi mi spostate un po' di qua, un po' di là per la scena, ma io no, io sono più tecnico, per cui vuoi la leccata alla Paul Gilbert, pennata alternata, veloce, vuoi la leccata alla sweep, sweep tipica da cantare, non te la legata, vuoi il legato della maggiore legato, vuoi il tarming, il vitalino, quella è la tecnica chitaristica ribottata sulla fregna, E' Cazzo! Io è strano che c'ho sempre questi fazzoletti, dove viene miscelato lo sperma col moccolo, non mi sembra una cosa tanta elegante, grazie Esther! Che devo fare? Allora, volevo presentarvi in questo mio nuovo pezzo, Cristo Pinocchio! Bravo! Piraccio! Magari ci sono fatti sprossiati! Chiudete la gabbia! Io devo parlare a te, che me sta? Gustafà me sta dietro, che me sta in faccia? Grazie, favolosso! Allora, Gustafà, 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 Gustafà! Tira a me, guarda in parola, che cazzo è fatti! Michele, guarda la banana che si è in testa del fulo! Io del passoletto, Gustafà! Go! Quella nuova, con il ciao, i miei 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 miei, vado a fare una cosa! con un falegname da croci, le vie, oh mio signore, sono così atroce, divincolata dai figli e da un cesso dal prefettatore, sorretta dalle catene di una chiesa anteriore, proia di un Dio minore che ti cavalca come un cane per esibire i tuoi tasti all'ultimo dei camionisti, scopola, 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 govita, govita, taglia, 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 passala, passala, ma perché nel palto mare sei proprio un animale, un animale, un animale, un animale, un animale, scendero che guarda su vasti che avvece, o era un camionista che ti escevando, spacciandosi per un prete, regalandoti il suo fallo per il simposio del metallo, infernale, infernale, asciuga il mio sudore, infernale, infernale, ma perché l'hai fatto male, infernale, infernale, ma perché l'hai fatto male, 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 l'hai fatto male. ultima delle cameriere, lo dicevo già da un po' che il rock t'avrebbe fatto male, o il Sahara di Neve di Portoletto che riconceva le cose, regalandomi il mio cervello per il simposio del metallo, era il mio cervello o era il ballo, o era il ballo, o era il mio cervello, o era il mio ける, doveusing. Dio mio che stronza, Dio mio che stronza, Dio mio che stronza... pure tu sorella mentisci pure tu madre io allora che dobbiamo dire Sì, sì. The crowd called out for more. The room was humming harder. As the ceiling flew away. And I called out to another dream. The wind I brought astray. And so we love. Oh, lady. Overbitter to his king. Let her love have gone so ghostly. Down the water. See the pain. It's there. 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 Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie ragazzi, siete fantastici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ero appena uscito dall'ospedale. E allora... Riccardo! 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 Stasera non mi segue il pubblico un po' meglio. Allora, dico una cosa. Allora, facevo fatica a, praticamente, facevo fatica ad andare a pisciare. Perché? Perché? Perché, sapevo che c'era l'ospedale, c'era, per cui me l'ha messo una dinossa vicino a letto. No, 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 no. No, 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 no. Cioè, ogni vostro appellativo, io lo prendo e racconto una storia. Siete voi che vedate le storie per raccontare altre cose. La sigaretta non mi sono mandata alcuna. Però, praticamente, la sigaretta, praticamente, invece, non mi ero accorto che per fare questo movimento col cazzo, onde prendere, sta paschetta, durante la notte, ce lo sono, avevo pisciato sopra le sigarette. Avevo pisciato sopra le sigarette. Ma non potete capire, altro che l'erba maggiorana, molto meglio. Ve lo consiglio, pisciate sopra le sigaretta. Sulle due! Non era male, è più giusto. Lascia il pazietto! Se pisciamo un poca direttamente! Però io tendo a dire sempre che non sono greggie da discoteca! E' grazia! E' grazia! Raccontaci dell'ospedale! Scusate, io non ho capito dove... Non ho capito dove gira sta voce per Proush. Proush! 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 Voi veramente non avete capito il proush? Non ho capito! Cioè, veramente non avete capito il proush? E' grazia il cazzo! Stai usando l'ufficio! Ma stai avuto più di mille donne, ragazzi! Di mille donne! C'è avuto più di mille donne! La cornuta! Erano tutte infermiere! E poi, io dico una cosa, quando non mi funziona il cazzo, prendo il bastone. Dove chi è il culo? E se dice uguale! Erano tutte infermiere! Erano tutte infermiere! Erano tutte infermiere! Io non mi capisco, ti giuro, veramente. Erano tutte infermiere! Erano tutte infermiere! Erano tutte infermiere! Di mille... Mustafa, sfoderalo! Erano tutti infermiere! Ma tu veramente pensi che davanti a te, altri si questi maschiati di ame mi si rizza il cazzo? A me mi si rizza il cazzo. Quando sto da solo, quella donna? No, quando stai da solo è basta! è grosso, a volte mi dirò che non mi convince, per cui me lo ritrovo grosso, dopo un po' a mezza misura, non lo so, da un po' di tempo mi convince di meno, questo è vero, però non sono grosso, uso altri orpetti, uso altre misure, perché quest'amore, voglio dire una cosa, nel senso che se io devo fare l'amore come lo fa il camionista, come lo fa quello, come lo amore, il lavandaio, tutti quanti, con tutto il rispetto per loro, perché sono dei mestieri favolosi, però io che sono l'estremo del tutto, no, sono l'estremo dell'estremo, se io devo fare quello che fanno tutti gli altri, che hanno fatto mia nonna, mia nonna, le mie risamole, tutto quanto, sempre la stessa cosa, io chiaramente ho altri gusti, molto più perspicaci, a volte anche più violenti, per cui mi piace un po' tagliare, mi piace un po' succhiare quel taglio, mi piacciono un po' quelle calze a rete con quel tacco a spillole di gato, della donna che l'ha vista di tutti i colori, e che ne va a provare altri colori ancora, hai capito? questo è il discorso, ma vedo che questi non capiscono il cazzo, e allora, io ho cominciato a fare questo discorso dicendo questo, che non sono grecce da discoteca, prima frase, seconda frase, c'era un sacco, che ne volete separazione, no, 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 non stavo male, giunto, veramente, per le, per le pranziere, per le pranziere, per le camminose, c'era un'altra storia, andiamo avanti, praticamente con quello, che non dicevo, butorganum si? e più bello il totale ce la amata, o le piezo! e Mustafa! ebl northern Jeremiah! e questo è il curtains, allora voi non avete capito il cazzo. Il discorso è questo, loro pensano che io posso darglielo, forse hai ragione, forse dato che nel letto mi sembra essere uno dei tanti che lo fanno uguale a me, farlo davanti a voi mi sembra diverso. Per cui mi eccita, hai ragione, mi eccita, farlo davanti a tutti voi, ma chissà se ce la faccio, questo è il problema, il problema è che non so se ce la faccio, se vuoi la pagina grande, comunque, comunque. No, mi faccio aiutare però, poi non lo so, non lo so se mi eccita a vedere un altro cazzo. Io dico una cosa, insomma, adesso questa me la devo dire, ci ho messo nove mesi che volevo uscire e tutta la vita che volevo rientrare. Comunque, abbiamo detto che non sono così in residenza, che cazzo è te, non mi ricordo di quello che dico. Perché stai all'ospedale? Grazie, grazie, non sono grecce da discoteca. Ma dopo arriva qui, nel senso, devo fare altri mesi, poi il batterista l'aveva visionato, e poi c'era anche Gianni, e poi c'era, oh Dio, io ho fatto la gente c'è stasera, la sentisse veramente male. Comunque mi sento bene, grazie amore mio, per questa buca così leggera, e questo taglio così, non inibido, ma del processo contolto, per cui mi declazioni. Mi sento l'arancho sulla cappella, sul clande, ah lo sai una cosa, che se metti un po' di cocaina sul clande sopra, diventa una cosa, sembra un fiore che esporce. Ma davvero lì? Ci ha trovato davvero lì? Io ho provato tutto per la mia vita. Cioè, metti un po' di cocaina sul clande, diventa una cosa, continuate anche, tipo si trinca, ma non è male lì. Comunque, in ogni caso, continuiamo il repertorio, il repertorio era questo, non... Lava della baruccia! Non ti preoccupare, ci sono andate altre cose a più, un peggio, altre cose... Però non mi trucco più, cioè questo è tanto, cioè, non mi trucco più, capisci, non mi trucco più. E allora vi faccio vedere per quello che realmente sono. Adesso ti voglio dire quello che realmente sono, per cui... E' conoscio! E' la merda! No, non solo sintesi di sintetico, E' la merda! E' i cannabinoidi, lo forati col tuo tacco a spillo. Ma, io voglio dire questo che è importante... C'è una barucca ancora sul cazzo! No, quindi c'erano i giapponesi, no, le giapponesi hanno la barucca sul cazzo, perché siccome gli uomini giapponesi hanno le donne giapponesi senza i peli, si eccitano se hanno i peli e c'è una compagnia di parrucche per fica che ha fatto i miliardi in Giappone perché le donne giapponesi si mettono le parrucche sul... No, è vero questo, eh! E' vero! E gli uomini, tutti, la paura! Tutti allungati in grande stile! Questa è un'altra storia ancora! Facci noi finire la prima storia, che è la decima e le ha fatte! No, non ti preoccupare! Per i suoi cazzi mia! Fammi di cazzi due, io mi faccio i cazzi mia! Tu abiti a casa tua, io abito a casa mia! A casa mia faccio come cazzi, mi pare! Attacco pure il jack all'applicatore, suono per ore e ore! Non c'è nessun problema! Veramente, sto meglio che mai! Veramente, però, in quinte punti, io ho bisogno... del latte droga! Non c'è nessun problema! Il mio uomo! Questo è il spettacolo, ragazzi! Qui girate tutti i rumodi la notte per scatalizzare per così poco! Ester! 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 ma non stanno i ragazzi della piazza vecchia che bella cosa ma è la giornata in sol l'aria serena, rosa, nate e bella e l'aria fresca, pareggiana, pesca che bella cosa è la giornata in sol l'aria serena, rosa, nate e bella o sole mia, sta fronte a te o sole, o sole mia, sta fronte a te o sole mia, sta fronte a te Che bella cosa hai, io nate solo te. Sola te troveri, io nate solo te. Sola te, o sole,l' claw to me. Sola, o sole, io s'affrontate. Saffrontate. La libertà è fuori, la morta è fuori, la morta è fuori. La libertà è fuori, la morta è fuori, la morta è fuori. La libertà è fuori, la morta è fuori, la morta è fuori. La libertà 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 è fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte e adesso sì. Passa il tempo di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani ma adesso dimmi sì. Non dire no, non dire no. Non dire no, non dire no. Lo so che ami un'altra, ma che ci posso fare, io sono disperata, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Non dire no. Non dire no. No, 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 non mi ero No, 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 non mi ero No, no, non mi ero No, 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 non mi ero No, 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 no Mostrava! 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 Marzia Sedok! Un applauso! 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 Grazie a tutti. 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 Come on! Hey! Grazie a tutti. Come on! Grazie a tutti. 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 Ciao! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti 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 Tu tu Grazie a tutti 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 Allora Grazie a tutti 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 Maria Grazie a tutti Codice Grazie a tutti Madre Madre Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo Grazie a tutti Noi che Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti